Stadio Maradona, svolta a sorpresa per il futuro. Ecco il piano di De Laurentiis. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha rinnovato in automatico la convenzione per lo stadio Diego Armando Maradona per i prossimi 5 anni, quindi fino al 30 giugno 2028. Il sogno del patron azzurro è quello di implementare l'impianto di fuorigrotta, rendendolo una struttura all'avanguardia sullo scenario nazionale e internazionale. Ecco quali sono i progetti di De Laurentiis per lo stadio. Il presidente del Napoli vorrebbe innanzitutto utilizzare maggiori spazi all'interno del Maradona ed avrebbe già avanzato tale richiesta. L'idea è quella di costruire un museo, un'area di intrattenimento, parcheggi e ristoranti. Per quanto riguarda invece la visibilità della partita, De Laurentiis immagina un Maradona senza pista di atletica, con gli spalti più vicini al campo. A questa soluzione si è detto favorevole anche il sindaco Manfredi, purché si trovi una soluzione per chi pratica atletica. Per ristrutturare l'impianto però servono investimenti e finanziamenti concreti, dal momento che si tratterebbe di una spesa pari a circa 80 milioni di euro. Vi piacerebbe vedere il Napoli in un Maradona e in una nuova veste?